Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele. Lo ripete in continuazione con fermezza la famiglia della DJ Viviana Parisi, trovata morta l'8 agosto scorso a Caronia nella Messinese, dopo essere scomparsa 5 giorni prima col figlio Gioele di 4 anni. Respingono con forza la tesi dell'omicidio-suicidio, certi che la amasse più della sua vita. È una tesi condivisa sin dal primo momento del marito, Daniele Mondello, che aveva definito le ricerche un fallimento. Polemiche che non vogliono neppure i legali delle due famiglie, che invitano al rispetto del loro dolore e del silenzio. Ma puntualizzano. Non c'è stato alcun tentativo di suicidio da parte di Viviana. Lo mettono nero su bianco gli avvocati della famiglia Mondello, i penalisti Venuti e Mondello. Il 28 giugno scorso ricostruiscono la donna è stata portata al policlinico di Messina perché le era venuto il dubbio di aver assunto un quantitativo leggermente maggiore del farmaco che è stato alle prescritto. 5 o 6 pillole, secondo la cognata. Uno scrupolo di familiari solerti, attenti, amorevoli e premurosi. Intanto, per non escludere alcune ipotesi, sono stati eseguiti nella sede della polizia scientifica di Palermo esami sui vestiti che indossava Viviana per verificare l'eventuale presenza di materiale organico o DNA di terze persone per l'ipotesi ritenuta poco credibile di un'aggressione da parte di uno sconosciuto. Uno dei legali della famiglia Mondello, il cugino Claudio, ipotizza il doppio incidente. Gioele che scappa e Viviana che sale sul traliccio per cercarlo e cade. Si cerca sempre una svolta definitiva nella ricostruzione del giallo di Caronia la cui dinamica è chiara per la polizia e magistratura fino all'incidente stradale che procura Viviana Parisi alla guida della sua auto e alla fuga con il figlio ancora vivo nelle campagne di Caronia. Resta ancora da verificare perché è scappata e cosa sia poi accaduto. Resta ancora da verificare perché è un'aggressione da parte di Caronia.